Un po' di verde sui mercati, sembra quasi un miracolo dopo 9 settimane di candele rosse per Bitcoin. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ci rivediamo in web dopo che ci siamo salutati dal vivo nella Blockchain Week di Roma questo weekend. Ragazzi, un weekend da paura, da spacco proprio totale e soprattutto bellissimo il confronto, ci siamo visti di nuovo, grande assalto, foto, interrogatori di terzo grado sulle analisi, dove andiamo, dove non andiamo, strette di mano, fotografie. Ragazzi, è questa la vita vera, al di là di quella che facciamo qui sul tubo e quello che facciamo ogni giorno con le analisi, eccetera, che è bellissima, ma poi quando ci vediamo dal vivo escono fuori le cose migliori, ci incontriamo, ci guardiamo negli occhi, ci scambiamo. Tutte quelle che sono le opinioni, ho passato veramente dei giorni, tre giorni circa, fantastici e volevo ringraziare tutti quanti quelli che erano presenti al Teatro Sistina di Roma e anche tutti quelli che un po' erano presenti anche con il cuore e con la testa, ragazzi, che ci sono stati vicino anche su Twitter, su tutti gli altri social. E ovviamente volevo ringraziare anche altri YouTuber che ci siamo rivisti per l'ennesima volta, tutti quanti a Roma, l'organizzazione della Blockchain Week Roma, Adriano in particolar modo. Ragazzi, bellissima esperienza e c'è anche una sorpresa. Eccola qui la sorpresa, ragazzi, è una super targa della Blockchain Week di Roma con il Crypto Content Creator e grazie di cuore, veramente con la premiazione che c'è stata alla cena di gala del giorno 27. Grazie di cuore, è anche estremamente bella perché è di vetro ed è un po' minimalista, quindi io la metterò esposta nella mia super libreria, sto facendo una libreria solo di opere d'arte, ma questa diventa. Grazie a la Blockchain Week Roma, grazie a Adriano, ovviamente, e grazie a tutti ragazzi. Ciao, grazie a tutti. Oggi è un po' verde la candela e un po' di movimento l'abbiamo, ma soprattutto andremo a guardare un grafico di Ethereum perché, come ho spacciato già tutti quelli che erano questo weekend a Roma, ragazzi, è proprio quello il grafico per me più importante di tutti per i prossimi tre mesi. Perché Ethereum BTC e la market cap di Ethereum segnerà un punto di svolta anche per la questione del merge, della criptovaluta. Moltissimi si stanno alzando contro la vicina delle cripto con la questione che addirittura venga definita una shitcoin, in pratica, con la trasformazione alla proof of stake. La cosa è giusta o non è giusta? Noi andiamo qui nelle strutture di quello che può essere una ideologia. Magari lo facciamo nella live domani, ragazzi, parliamo un po' di più nella live domani. Però sicuramente tante cose cambieranno. Tutto quello che abbiamo visto si andrà a riscrivere, ne parliamo in questo video perché, secondo me, prossimi tre mesi è chiave, sarà chiave guardare ETH. Una rondire non fa primavera, una candela verde non fa un nuovo trend rialzista. Ed è proprio questo che vi voglio dire oggi, ragazzi, perché sono tanti gli scogli da superare, soprattutto anche da un punto di vista di analisi ciclica, a livello di timing non sembra essere un timing corretto. Se non che c'è anche un'altra versione dell'annuale che potremmo andare a vedere, ma solo dopo che BTC avrà dato almeno un minimo di segnale, altrimenti perdiamo solo tempo. E quindi non mi va, ragazzi, di andare e poi a farvi vedere dei grafici inutili che vi metto in testa e poi non servono a niente. Lo sapete, io sono estremamente preciso su queste cose, è molto molto iperminimal. Va bene, iniziamo da Bitcoin per andare a vedere la questione dell'analisi grafica. Ce l'avevamo lasciati con l'idea che fosse iniziato un nuovo ciclo mensile. Ed è proprio grazie a questo nuovo ciclo mensile del re delle cripto che stiamo respirando un po' dopo i crash avvenuti nella settimana di metà di maggio. Se non fosse appunto per la sua nuova struttura ciclica che è iniziata probabilmente o sul minimo del 12 maggio o sulla chiusura del 18 di maggio, come altre cripto, ad esempio, che hanno fatto la stessa tipologia di atteggiamento, moltissime hanno iniziato proprio in struttura il nuovo ciclo sul 12, mentre vediamo che appunto Ethereum, guardate un po' come ha modificato. Infatti è proprio diversa la struttura di Ethereum, perché se dovesse avere iniziato un nuovo ciclo mensile, proprio l'11, è già ribassista. Quindi proprio per questo ragazzi vi ho dato già un accennino alla questione estremamente rilevante che dobbiamo andare ad affrontare. Questa candela è secondo me importantissima per Bitcoin, perché va a segnare proprio l'inizio di un nuovo ciclo in maniera un po' più precisa. Anche se soltanto il superamento di 31.500 sancirà teoricamente la conferma ufficiale dell'inizio di un nuovo ciclo mensile, se non che ragazzi i giorni passati a questo minimo sono veramente tanti, perciò sinceramente non mi sento di dirvi che c'è ancora rischio che il mensile non si sia chiuso. È anche vero che guardate un po' la struttura dei minimi come Beffard, ancora una volta, nelle chiusure, perché 1, 2 e 3 sembrano dei tribli minimi. Quindi ancora una volta, come è stato alla fine di questo annuale, Bitcoin non ci lascia margine di comprensione di qual è effettivamente il minimo da prendere in considerazione, perché come qui, 1, 2, 3, insomma, anzi questi erano già più pronunciati, ma guardate qui, 1, 2, la stessa cosa fatta per esempio in questa fase finale, 1, 2, 3, non si capisce dov'è, e ancora una volta 1, 2, 3. Questa struttura di congestione classica che sta facendo alla fine dei cicli, che poi ci sposta un po', perché potremmo essere appunto con un inizio ciclo al 12, al 18 o addirittura al 27 di maggio. Quindi dovremmo andare poi a strutturare. Io come sempre in queste condizioni, quando c'è veramente incertezza, l'analisi ciclica non è chiara, perché comunque non è un'analisi che sta lì a livello quantitativo, ragazzi, è un'analisi del tempo. Quello che faccio è il buon consiglio della nonna o del buon padre di famiglia, cioè prendo una data intermedia, poi la vado ad aggiustare man mano che andiamo avanti, perché tanto il concetto non cambia, è un nuovo ciclo mensile, ci sta sostenendo in questo momento, ma è comunque appartenente a un ciclo annuale ribassista, che è virato nelle scorse settimane, ragazzi. Quindi soltanto un accorciamento del ciclo annuale di Bitcoin, che è iniziato a luglio 2021, oppure una chiusura di questo ciclo annuale di Bitcoin, può portarci un nuovo trend sostenibile per qualche mese in avanti. Prima di allora non c'è scampo, in teoria, ragazzi, l'unica cosa che possiamo vedere è rimbalzi, ma poi ci sarà un nuovo tentativo di affondo del mercato. Quindi esiste appunto questo problema di fondo, quando si vanno a breccare i minimi di un ciclo annuale, che proprio non lascia scampo, ragazzi, cioè o siamo su un ciclo ternario di due annuali misti, lo vedremo se superiamo alcuni livelli, poi vi parlo di questa teoria, perché è un'anomalia, altrimenti si scende fino alla fine di questa struttura ciclica, che ha una scadenza tra agosto-settembre, più o meno, e l'estate, diciamo, dalla fine di luglio fino a settembre, ragazzi. Poi con le dovute cautele, perché come avete visto, lo scorso doveva chiudere a maggio, si è allungato fino a luglio, quindi sapete bene come funziona ormai, penso avete imparato questa fisarmonica, però abbiamo un'idea generale e dobbiamo stare fortemente attenti, perché se non siamo in un'eccezione ciclica, tra un po' di tempo, quando questo mensile inizierà a spingere la sua parte ribassista, si tornerà ovviamente ad affrontare un trend al ribasso. C'è anche un po' di speranza sul fatto che questo ciclo mensile potrebbe anche non essere ribassista, cioè significa che entro la fine di questo mensile, che dovrebbe avvenire più o meno verso metà del mese di giugno, potremmo anche non scendere sotto questi minimi, perché la ciclica in questo caso ci indica che proprio in questa zona probabilmente è partito un trimestrale, essendo un trimestrale un ciclo superiore, potremmo avere il primo mensile al rialzo, e questo ci fa sperare magari anche per il mese di giugno, perché ragazzi anche il mese di giugno è delicatissimo, perché con maggio noi andiamo a fare un break in close mensile anche di tutti i livelli di supporto, cosa mai fatta negli scorsi 8-9 mesi. Ne parliamo nei prossimi video, ci sarà tanto da dire ragazzi, iscrivetevi al canale così a parte tutto mi sostenete insomma un po' e lasciatemi un pollice che in queste situazioni sono sempre ben accetti ragazzi, non vi dimenticate che ci aiutate con l'algoritmo YouTube. Allora da un punto di vista di analisi tecnica, quindi passando ai dati di natura tecnica, il superamento di zona 31,5 sancisce la fuoriuscita da questa barra di congestione e il solito pattern di inversione che Bitcoin fa. Poi teoricamente io penso che potrebbe anche riuscirci ragazzi a fare questa cosa, poi il problema qual è? Che si trova immediatamente degli scogli notevoli, primo di tutti questa zona ampia tra 33 e 36, che è insomma una zona di forte resistenza, perché ne abbiamo una in questa zona, una in questa zona, tutto questo che è la congestione del ciclo annuale precedente che aveva portato all'inizio di una nuova fase rialzista, in pratica è una zona di forte congestione dei prezzi, ma è anche probabile per una questione naturale che il mercato provi in sostanza ad andare nuovamente vicino questa struttura di trend al ribasso, e quindi provi in pratica ad avvicinarsi in questa zona prima magari di andare a fare una nuova fase, che teoricamente dovrebbe essere appunto questa qui. Andremo a parlare poi nei prossimi video anche di target eventuali, perché ho già una struttura disegnata di una fase lunga ragazzi, ma volevo spiegarvela anche perché questi dati sono ancora un po', li sto ancora studiando, quindi non mi va di dirvi delle cose che poi magari devo andare a correggere eccessivamente nel corso d'opera. Andiamo a vedere Nasdaq e anche il motivo per il quale siamo un pochettino verdini, cioè il fatto che la scorsa settimana abbia rimbalzato in maniera vistosa con un più 7% rispetto alle settimane precedenti e questa settimana si è aperta nuovamente positiva. Anche qui ragazzi siamo in una struttura che non lascia scampo perché o qui abbiamo chiuso un nuovo ciclo annuale di Nasdaq, magari andremo poi ad approfondire anche questo nella live di domani ragazzi sul mio canale Telegram, ma c'è il link insomma dove faremo anche le live, quindi mi raccomando non mancate. E quindi o qua abbiamo chiuso un nuovo annuale e iniziamo una nuova fase anche con Nasdaq oppure anche qui non c'è scappo, dobbiamo andare a fare magari un doppio minimo, magari quello che sarà, però insomma questo è la situazione. Una rondina non fa primavera mai come in questo caso in pratica, però lo avevamo già detto che il livello di minimo raggiunto a 32% di oscillazione, questo meno 32%, fosse comunque interessante proprio perché eravamo ad una fase di eccesso di volatilità del mercato classico, perché abbiamo detto ragazzi che succede una catastrofe, ce ne andiamo come nei bear market del 2020 oppure questa cosa qui era già un bel livello raggiunto, potremmo scendere di un altri 20 punti, ne abbiamo parlato nell'ultima live, ma ci sta il rimbalzo appunto da queste fasi. Rimbalzo che magari da un punto di vista di trading può essere interessante per chi fa trading, ma dal punto di vista di posizionamento medio-lungo non cambia niente perché il trend di medio dei mercati classici è al rimbasso, quindi non ci piove. Su questa cosa qui per invertire ce ne vuole acqua al mare. Ragazzi non mi aspetto una B come inversione, come è stato nella questione Covid, perché questa B è un'anomalia, non succede quasi mai nei mercati, una B pronunciata diciamo in questo modo, abbiamo avuto queste situazioni per le manipolazioni delle banche centrali. La soluzione più comune solitamente è vedere questo tipo di atteggiamenti. È vero che anche qui nel 2018 c'è stata questa ennesima inversione, ma anche qui le inversioni AB solitamente sono manipolazioni da parte delle banche centrali. Anche qua nell'ultimo grande bear market del 2008 avete visto qui una struttura di barra di congestione, che è un po' più comune e sarebbe più consona anche a questo tipo di mercato. Vedremo un po' come andrà, vedremo un po' anche questa rinnovata Fed che vuole stringere i tassi, se cambierà appunto le regole del gioco anche sui mercati classici. In ogni caso, in questo momento, il rimbalzo del Nasdaq resta un rimbalzo. Se dovesse cambiare questa cosa dovremmo vedere Nasdaq superare questa fantomatica media ormai, che la conoscete benissimo. È una media mobile a 26 settimane, quindi quella dei 6 mesi, che è lontanissima, guardate qui dove sta. E quindi insomma siamo veramente molto lontani. Bene, detto questo, passiamo a vedere quello che è un grafico straimportante, cioè la questione Ethereum, ragazzi. La struttura di Ethereum, ragazzi, è completamente anomala rispetto a quello che è successo a Bitcoin nella scorsa settimana, proprio perché mentre stava reggendo un po' di più fino al 12 maggio circa, insomma, fino a questa fase qui, a un certo punto è iniziato a scivolare alla di sotto di quello che erano i minimi, che sono stati fatti proprio durante lo scivolone della questione Luna. e nei giorni passati, 25-27, abbiamo avuto uno scivolone importante di Ethereum con un meno 10-11% circa, che è la mandata al di sotto dei minimi di questo 12 maggio. Allora, la questione è delicata, perché o un conteggio ciclico anomalo su Ethereum ha segnato nella giornata del 28 di maggio la chiusura di un ciclo mensile per Ethereum oppure il ciclo mensile di Ethereum è già ribassista. Anche questo è un evento estremamente rilevante, perché qualora fosse confermato, adesso vediamo cosa dobbiamo andare a guardare, significherebbe che scende fino almeno alla metà del mese di giugno e continuerà fino alla fine del ciclo annuale. Questa cosa qui è pericolosissima, ragazzi, per una serie di motivi, proprio anche per la questione Merge, che dovrebbe avvenire, non so se la rimandano ancora, verso l'agosto, almeno Vitalik ha detto questa cosa qui, e quindi appunto la pericolosità di questo grafico e anche tutta la questione di Ethereum è saltata fuori proprio, insomma, nelle scorse settimane. Ho anche un altro grafico che vi faccio vedere, sul quale faremo poi la nostra analisi, che è quello della Market Cap, perché c'è stato un evento unico, cioè in pratica, mentre il prezzo scelso di Ethereum, ragazzi, la Market Cap non ha fatto un minimo. Questo perché? Perché il burn degli Ethereum è molto alto in questa fase, vi faccio vedere anche un po' quelli che sono i vari grafici, e c'è stato questo scivolone, anzi questa impennata del burn, proprio nei primi di maggio, e ha causato anche il innalzamento della Market Cap, un abbassamento, diciamo, della Market Cap, nonostante il prezzo sia un po' sceso. Cerco di spiegarmi meglio, ragazzi, il minimo di questa settimana, del 9 di maggio, è stato più basso, molto più basso, sulla Market Cap, rispetto a quello che abbiamo avuto sul prezzo, che vedete, era concomitante, in pratica, con il minimo precedente, anzi, era al di sopra, del minimo di gennaio, vedete che qui invece, sprofonda letteralmente sopra, sotto il minimo di gennaio, proprio per il burning, perché il burn dei token, ha fatto scendere la Cap di Ethereum prima, cioè a inizio del mese di maggio, e non durante l'ultima fase, quindi in pratica c'è stato uno scostamento dei minimi, quindi se andiamo a fare l'analisi ciclica sulla Market Cap, ci risulta differente rispetto a quella, che vediamo sul grafico dei prezzi di Ethereum, interessante questa cosa, perché non avviene spesso, ed era bello farvelo vedere, in ogni caso andiamo a vedere l'analisi tecnica, così da comprendere, quali sono i livelli su Ethereum interessanti, allora solo al di sopra, di questo livello, viene scongiurata, la problematica, dovuto al fatto che Ethereum potrebbe avere, già un ciclo mensile al ribasso, quindi solo ed esclusivamente, con un massimo superiore, ai 2200 dollari, se non supera i 2200 dollari, la probabilità che in questa zona, sia iniziato un mensile, già ribassista, è molto alta, molto molto alta ragazzi, viene proprio mitigata questa probabilità, dal fatto che, questa Market Cap, ci dà una logica diversa, proprio per via del fatto, che il minimo, è stato raggiunto in questa settimana, dovuto proprio allo scivolone, causato dal burning, in questa fase, quindi vedete qui, in tutta questa fase, la Market Cap scende di più, perché i token vengono barnati, mentre invece il prezzo scende, ma non come la Market Cap, e quindi si va a configurare, questa specie di differenza, allora, in linea di massima, quindi abbiamo, vedete, due soluzioni, un po' diverse, quindi se non abbiamo, il superamento dei 2175, Ethereum ha un mensile, già al ribasso, diverso da BTC, perché BTC ragazzi, non ha un mensile, al ribasso in questo momento, ma è ancora rialzista, perché vedete, tiene il massimo, e il minimo, della zona, sia del 12, ovviamente, che molto profondo, ma anche questo qui ragazzi, più o meno ha tenuto, con un doppio minimo, ma ha tenuto, quindi, siamo sempre in virtù, diciamo di, in balia, diciamo del bear market, quindi dell'orso, però, in sostanza, un po' di differenza c'è, vi faccio vedere, anche quello, che è la market cap, invece di Ethereum, così analizziamo, anche un grafico diverso, ok ragazzi, allora, la market cap di Ethereum, come vedete, ha un disegno, leggermente diverso, intanto è sopra, il ciclo annuale, fa ridere questa cosa, proprio a caso, diciamo, di tutta la questione burning, quindi vedete, è proprio poggiata, sul livello di supporto, e sembra infatti, che la regina delle cripto, sia seguendo molto, questo grafico, piuttosto che l'altro, e questo non sarebbe, neanche strano, proprio per via del fatto, che la struttura, sottostante ad Ethereum, è cambiata completamente, grazie, alla nuova, questione legata, al, al protocollo, 1.5, la, 1.5.5.9, ragazzi, come si chiamano, adesso, non per ieri, in questo, in questo momento, il, l'AIP, ok, e, mentre, precedentemente, non c'era questo concetto, e quindi, il fatto che, un grafico, in questo momento, si debba andare a riscrivere, in maniera diversa, non è strano, perciò, la market cap, forse, fitta meglio, i prezzi, gli atteggiamenti di Ethereum, in questo contesto, ecco per questo, ho, inserito anche, un altro grafico, per andarlo, a controllare, la situazione ciclica, intanto, la facciamo, con un grafico, per esempio, settimanale, così vediamo anche, una, spunto, differente, dovrebbe essere questo, quindi, qui, abbiamo l'inizio, del nuovo ciclo annuale, di Ethereum, il ciclo annuale, non dovrebbe essere lungo, come i precedenti, perché questo, teoricamente, è ribassista, dovrebbe andare a concludersi, più o meno, nella zona, della, di settembre, 2000, 2022, se dovesse allungare, come i precedenti, dovremmo andare, poi, vicino a novembre, ragazzi, ne parleremo poi, eventualmente, nei, con calma, perché, chiaramente, insomma, non ha senso farlo adesso, parlando di tempi così lunghi, la struttura, di questa fase ciclica, sembrerebbe proprio, essere a metà, con questo semestrale, che è andata a chiudersi, qui, e questo semestrale, già virato al ribasso, in procinto di fare, in teoria, questo tipo di atteggiamento, quindi, qui abbiamo, ancora il sostegno, del minimo, del ciclo annuale, di Ethereum, perché non è stato breccato, ragazzi, quindi, il rimbalzo, di questa settimana, e di questi giorni, è logico, in questo contesto, perché, ha incontrato, i 200 billion, come livello di supporto, ora, cosa succede, se brecca, questo supporto, è un problema, abbastanza evidente, proprio, perché, se dovesse andare, a breccare, il supporto, in questione, probabilmente, ragazzi, proprio, sia a livello di market cap, ma già a livello di prezzo, lo abbiamo visto, la regina, va giù, va giù, ragazzi, e, il concetto, è che, i successivi livelli di, eh, supporto, non sono così belli, perché, eh, sono distanti, dagli attuali prezzi, ragazzi, quindi, il primo livello di supporto, dista 36, 37, il secondo livello di supporto, dista 65 punti percentuali, e la zona intermedia, dista 50 punti percentuali, dagli attuali prezzi, significerebbe, comunque, un grave crash, della regina delle cripto, accompagnato a questo crash, vedremo un disastro, ovvio, anche su tutte le altre criptovalute, DeFi, senza, eh, limiti, a meno che, non si vada, poi, incontro, ad una questione legata, solamente, a Ethereum, per la questione Merge, Merge, ma di questo, dovremmo fare attenzione, quindi, ragazzi, capite bene, quanto, il livello di supporto, dei 200 billion, sia, in questo momento, rilevantissimo, per l'intero mercato, delle criptovalute, non solo per Ethereum, perché, se è breccato, questo livello, è difficile, che la regina, si fermi qui, e faccia, una cosa del genere, potremmo assistere, a uno scivolone, uno scivolone, notevole, e, avete visto, i livelli, ragazzi, un meno 30, meno 40, meno 50, di Ethereum, e dove porta, le altre, cripto, soprattutto, quelle più piccole, magari non Binance, che sta reggendo tanto, non Bitcoin, però, ragazzi, questo, è il grafico, da tenere, con gli occhi, così, per i prossimi mesi, perché, se dovesse succedere, una cosa del genere, siamo messi, non male, malissimo, e quello, è il mio grande dubbio, si vede questa cosa, anche sul grafico, e di non BTC, ne parliamo, però, nella live, di domani, perché, se no, sono troppe info, per un video, oggi, ragazzi, non riesco, a finirlo più, e vi farò vedere, anche domani, quell'altro grafico, che, ci mette, proprio, la pulce nell'orecchio, perché, sembra, identico, alla questione, della Total Market Cap, della DeFi, che vi ho, di cui, con cui vi ho bombardato, in pratica, nei giorni scorsi, vi faccio rivedere il grafico, quando vi dicevo, che stava disegnando, questo DeFi, reversal pattern, e che, proprio, la struttura, che doveva reggere, era questa zona qui, zona che è crollata, ha sancito, poi, un crash, rilevantissimo, molti di voi diranno, e si è causato, dal crollo, di luna, ragazzi, però, tutti i break, vengono, cioè, poi ci danno una, che creano un flash crash, ecco, scusate, hanno sempre una motivazione, ma la motivazione, non è, parte dell'analisi tecnica, l'analisi tecnica, indica, la pericolosità, in quel caso, di un evento del genere, poi c'è sempre, una causa, scatenante, di, diciamo, un crash, però, in sostanza, la indicazione, era esattamente quella, e quella è avvenuta, tant'è vero che, si è andata anche, ragazzi, a sistemare, proprio la total market cap, della DeFi, sul livello di 63 milioni, di cui avevamo parlato, proprio a gennaio, addirittura, e l'ha breccato, ragazzi, vedete, l'ha breccato, anche verso il basso, appoggiandosi, all'estensione, di questo livello, che coincide, con i minimi, in shadow, proprio, di questa fase, vedete, e adesso, è appoggiata qui, al di sotto, di questo livello, e quindi, accompagnando, una, crash di Ethereum, di un meno 50, per dirti, e dirlo, ma ragazzi, per dirvi, avete chiaro, proprio, quello che vedete, in questo grafico, è la pericolosità, di questa struttura, che ha, un solo livello, di supporto, a 16 billion, 20 billion, è un disastro, questo, è il problema, di questa fase, sarebbe, un meno 60%, nella, total market cap, della DeFi, ovviamente, Ethereum, dentro qui, la fata padrona, quindi, questo è un grafico, dove, Ethereum stesso, compone, una gran parte, di questo grafico, ragazzi, e quindi, ci sta, che se appunto, crash, la regina delle cripto, potremmo assistere, comunque, a un crash, indistinto, in questa zona, ovviamente, è una pericolosità, è un estremo, però, la situazione, è molto delicata, quindi, io vi chiedo, ancora una volta, di fare, molta attenzione, a, eventuali, ideologie, assurde, del compro, mentre cado, e fesserie, del genere, perché, ci lasciate le penne, come già avete visto, quindi, mi raccomando, questa è una fase, molto importante, ma ci sono anche, molte opportunità, perché, dovesse avvenire una cosa del genere, ci sono dei must short, che si possono andare a creare, sulle cripto, che potrebbero coprire, l'intera posizione di bitcoin, anche se dovesse crashare, il ref, ne parliamo domani, approfondiamo un po' il tutto, lo so, non sono belle notizie, a me non piace, darvi, in cattive notizie, e quindi, mi rimetto il mio bitcoin portafortura, e spero, vivamente, che tutto quello, che vi ho detto oggi, sia sbagliato, perché, ogni tanto, anche a me capita, di sbagliare, ragazzi, e in questo caso, spero proprio, sia, la situazione, che sia sbagliata, soprattutto, su Ethereum, fate attenzione, ci vediamo domani, nella live, e grandi approfondimenti, intanto, godiamoci questo rialzo, sempre verde, e vediamo, perché, se magari, Ethereum, non brecca, il livello dei 200, billion di market cap, e sale sopra, alcuni livelli, per esempio, i 2,2, come abbiamo visto prima, beh, ci espira, allora, magari, iniziato un ciclo, abbiamo, insomma, c'è un'anomalia, quindi, se si verifica un'anomalia, cruciamo le dita, siamo tutti più felici, però ragazzi, se l'anomalia, non si verifica, è di solito, al 66%, come si dice, non si verifica, questi sono i dati, fate molta attenzione, ciao, ci vediamo domani, nella live.